Ciao a tutti e a tutti, bentornati e benvenuti in un nuovo video. Io sono sempre Ilaria e oggi, come vedete anche dal mio make-up, parliamo di Corea, in particolare della skin care barra make-up. E' quello che ho preso sul sito di YesStyle, principalmente viene tutto da lì. Non è una collaborazione, non è sponsorizzato, ho comprato tutto io, rischioni pure belli grossi, quindi sono contenta di potervi mostrare un po' tutto il mio arsenale qui, che non ho neanche aperto. Primo perché vabbè, ho delle cose ovviamente da finire per quanto riguarda i prodotti di skin care, quindi non mi va di aprirne altri. Volevo farveli vedere belli impacchettati ancora, l'indiepinti. Mi apro anche l'applicazione di YesStyle, così vi so dire i prezzi. Perché allora, partiamo dal fatto che skin care coreana, migliore del mondo, questo è poco ma sicuro, tant'è che se vedete i coreani stessi hanno una pelle diafona bellissima. Un po' ammetteteci che è genetica, un po' è perché proprio hanno questa cultura di fare skin care, di farla tutti i giorni, mattina, sera, fare maschere, comunque starci belli dietro. E quindi vi faccio vedere un po' quello che ho preso. Ho fatto due ordini. Il primo ci ha messo un botto ad arrivare perché c'erano delle cose che non erano in stock e dovevano tornare. Mi è stato chiesto, vuoi che ti inviamo i prodotti che intanto sono disponibili o vuoi aspettare? Ho detto, vabbè, aspetto, insomma, quanto sarà? Due mesi. Due mesi e mezzo ci ha messo. Però, vabbè, alla fine è arrivato, quindi ok. Invece l'altro che ho fatto c'era tutto in stock, quindi è arrivato tutto subito. Cioè ci ha messo letteralmente forse una settimana e mezza. Allora, prima oltre a tutti vi faccio vedere questo. In realtà ne ho prese due, sia questi qua al limone, sia quello al tè verde. Quello al tè verde lo sto già utilizzando perché nella mia skin care avevo finito quello che è il prodotto, diciamo che ha la funzione scrabbante e un po' di peeling, come lo è questo qua. Infatti questi sono dei pad, precisamente sono 30, credo, imbevuti già del trattamento. Ad esempio, appunto, questo qua è un gaze peeling, quindi ha un'azione levigante e illuminante, mentre ad esempio quello al tè verde ha un'azione levigante e idratante. Quindi, insomma, ce ne sono diverse ed è del marchio Neogen. Troverete gli stessi marchi più di una volta perché ci sono delle cose, ecco, interessanti. E quindi questi sono proprio dei paddini monouso che voi andate a sfregare sul viso dopo che avete fatto la vostra detersione. Quindi diciamo che questo è un po' il terzo step, se vogliamo dirlo. Poi, ovviamente, con tutti questi prodottini vi farò un video, una volta che li andrò ad utilizzare tutti, per vedere proprio se c'è un cambiamento effettivo nella mia pelle, dopo magari li utilizzo per due settimane. Li ho pagati 25,80€. Non so se con gli sconti, se con qualcosa, comunque, più o meno, poi i prezzi tanto li trovate sul sito. Io vi rimetto tutti quanti i link delle cose che vedete qui sotto. Poi, passando ad un altro prodottino, ho acquistato questa. In realtà, quando ho fatto l'ordine, appunto, era tipo fine settembre, quindi ero tornata dalla vacanza, avevo preso il sole, avevo preso il sole. Io utilizzo solo l'aloe, non uso creme dopo sole, ma aloe puro. E questo qua l'ho trovato, appunto, dell'olica olica, che è al 99% aloe, quindi ottimo. Ed era una versione, tipo, più piccolina, no? Quindi da viaggio era carina. E infatti sono 55ml. Credo di averla pagata intorno ai 3€. Ora non mi si apre sull'applicazione, non so se è perché non c'è più. Comunque, molto utile, sempre da avere l'aloe. Questo qua, sempre un prodotto della Neogen. Ci sono anche di queste, diversi, chiamiamoli gusti, non lo so, diverse boccettine. Questo qua è sempre al green tea, quindi al tè verde. Ed è appunto una foam, quindi da utilizzare come secondo passaggio skincare. Io adesso ne sto già affinando un'altra, quindi questa sto aspettando per aprirla. Ha un'azione abbastanza riequilibrante e idratante. Ci sono un sacco di versioni di questa foam della Neogen. Ci sta anche quella, ad esempio, con i cereali, dove vedete proprio i cereali qua sotto. Questa era pagata a 14,80€. Come vedete poi sull'applicazione ce ne sono, vedete, tante, tante, tante. Uno dei passaggi più importanti della skincare, che moltissime persone proprio neanche ci pensano, in realtà è la protezione solare. Sempre estate, inverno, qualsiasi stagione, tutto l'anno. Ed è un passaggio che io infatti faccio come ultimo proprio step della skincare, prima anche del make-up. Per questo è buono comunque avere delle protezioni solare, non quelle che usiamo tipo al mare, che magari sono troppo grasse, ma per quanto riguarda il viso, avere sempre delle protezioni 50 o più. Ma a prescindere fa bene mettere la protezione non solo per chi vuole mantenere, diciamo, un colorito tipo il mio, ma proprio perché previene la comparsa delle rughe. Se avete, come me, moltinei sulla parte appunto del viso, vabbè, c'è il fondotinta, non si vedono. Ovviamente aiutano anche per quello. Quindi ne ho prese due. Nel primo ordine che ho fatto ho preso questa qui, che è una crema solare, appunto, 50 più per il viso, della Frudia. Che è un marchio che ritroverete spesso e che fa un sacco di prodottini. Tubbetto classico. Ovviamente poi vi ritrovate, vedete, tutte le varie scritte in coreano qua dietro. Insomma, questa è la classica boccettina. Perché vi faccio vedere questa cosa? Perché poi l'altra che ho preso, ad esempio, è questa. Che ho preso nel nuovo ordine ed è della Eastree. Pagata, infatti, di più perché costa 17,50. E questo qua è uno stick solare leggero all'acido ialuronico. Quindi, oltre appunto alla funzione di protezione, ha anche l'idratazione dell'acido ialuronico. E poi è comodo da portare in giro proprio perché è in stick. E quindi mi serviva una protezione da mettere magari in borsetta, no? Oltre a quella classica che poi ho anche qui e che metto tutti i giorni. Quindi, ho detto, questa è stick, è favolosa. Infatti, vedete, è fatta proprio tipo deodorante. Voi lo andate ad applicare poi nei vari punti durante la giornata. Poi io questi prodotti, ovviamente, li vado ad acquistare in base alle recensioni che leggo sul sito, alle recensioni che leggo, che sento in generale tra le persone che seguo. Quindi, ecco, date sempre un occhio a queste cose qui. Anche perché ci sono mille e mila protezioni solari sul sito di E-Style, ad esempio. Quindi, magari vi può venire difficile dire, ok, quale scelgo adesso? Poi, io sono ossessionata con i balsami labbra, ve l'ho detto milioni di volte e ne ho tantissimi. Cioè, sto guardando qui la mia colonnina, ne ho veramente forse anche troppi. Quindi, ho voluto acquistare questo qui, che tra l'altro è sempre della frutia, che è un Blubbery Hydrating Honey Lip Balm, quindi è al miele e mirtillo. Aveva una confezione troppo carina la Winnie the Pooh, quindi sì, un po' mi sono lasciata comprare anche da quello, devo dire. Comunque, sono 10 ml, quindi è veramente tanto, è tantissimo. E l'ho pagato 6 euro, quando sarà il suo turno verrà utilizzato anche lui. E sempre per quanto riguarda l'argomento balsami labbra, ho voluto acquistare questo. Allora, chi segue il K-pop sicuramente l'avrà riconosciuto, perché viene visto molto spesso utilizzare dagli idol, appunto. Ed è un Lip Tone Hap, sì sì, quindi Color Control, SPF 20, quindi anche qui c'è la protezione solare. E io l'ho preso nella colorazione, dovrebbe essere rosé, una cosa del genere, rose pink, sì. Ci sono due colorazioni di questi, cioè sia la rose pink che la più red. Questa qui costa 5 euro. E appunto non l'apro adesso, ma vedete, vi dà questo effettino, no? Labbra sane, un po' coloratine. Ci sono tante alternative, ci sono tanti marchi che fanno questo tipo di prodotti. Vedete, qui abbiamo Taehyung, Jung Yi e Jimin che usano il balm. Io per farvi un esempio ho acquistato anche questi su Amazon, che sono quelli della Burn Bees. Sono magari un attimo più reperibili qui da noi. Che sono sempre colorati. Infatti vedete, c'è la cera che è colorata. Ho acquistato questo, che cos'è? Eccolo qua. Questi qua sono dei toner pad, quindi come i primi che vi ho fatto vedere sono dei pad già imbevuti. Però questi qua sono dei pad alla vitamina C, quindi hanno un effetto illuminante, che è sempre bene integrare, soprattutto la mattina, quindi nella skincare della mattina. Tra l'altro questa confezione è stupenda, cioè è proprio bella, rigida, corposa. All'interno ho le pinzette per prendere i pad, cioè tutta una cosa. Infatti costano anche un po', però sono anche parecchi pad. Ne sono 70 pezzi e sono appunto vitamina C e mandarino verde, pagato 23 euro. Passiamo a questo qui, che è un'ampolla, un siero, di cui ho sentito parlare benissimo. Del marchio CosRx, di cui infatti ho preso anche un'altra cosa che non vedo l'ora di utilizzare. Siero ha il triplo acido ialuronico, quindi idratante. Tra l'altro sul sito non so perché c'è scritto consigliato per l'influencer. 20 euro e 95, 40 ml, sì. Quando vedete nei famosi step della skincare coreana la nota essenza, loro intendono proprio sieri, ampolle, ci sono tanti prodotti che possono rientrare in questa categoria. Vi apro la confezione così vi faccio vedere com'è fatta. È proprio un'ampollina di questo genere. Poi, sempre di questo marchio, quindi CosRx, ho preso questo. Ragazzi, questo è il prodotto che più di tutti mi intrippa e non vedo l'ora di aprire, che è un power liquid contro i punti neri. Io soffro tantissimo di punti neri, purtroppo. Sarei contentissima con la mia pelle perché io ci sto molto attenta, però devo dire che sono anche fortunata. Ma la cosa dei punti neri ce l'ho sempre. Sarà che appunto ho la pelle chiara, quindi si vedono sempre di più, vabbè. Ma a zona del naso e qui, proprio qui ne ho detto fammi provare. Cioè ne ho sentito parlare benissimo, non bene, benissimo. È questo prodottino qua, tra l'altro molto, molto liquido. 15,50 euro, quindi in realtà neanche troppo, visto che sono 100 ml. Vi leggo ad esempio una delle recensioni che hanno scritto questa ragazza, credo si sia americana, non lo so, comunque ha scritto in inglese. Lo uso un paio di volte a settimana, riduce acne e breaks out, che sarebbero gli sfoghi, insomma. Kills the acne. Quindi è adatto anche per chi magari ha problemi appunto di acne, poi chiedete sempre ai vostri dermatologi. Infatti contiene anche l'acido glicolico, quindi sono molto curiosa di provarlo. Questo non va utilizzato sempre, ma appunto quando avete magari particolari sfoghi. Poi ho preso un po' di maschere in tessuto, ovviamente, vi ripeto, in Corea sono ossessionati con le maschere in tessuto, lì da loro costano pochissimo. Allora la prima, che è di The Face Shop, pagata 99 centesimi, è una maschera idratante al miele, molto semplice, classica, basica e ok. La seconda è di olica olica, io adoro le maschere di olica olica, ce ne sono diversi tipi, infatti su questo sito costano 3 euro. E ho preso quella al cetriolo, che è sempre idratante. I campioncini ve li faccio vedere alla fine. Adesso passiamo al make-up, i fondotinta cushion. Penso qualsiasi marchio make-up coreano ha nella gamma il fondotinta cushion, perché è una delle cose per cui vanno più pazzi. E infatti ne ho voluti provare due, anche qui sul sito ne trovate tantissimi. Io ho preso questo di Peach Chi, che è l'Honey Glow Cover Cushion. Io ho preso la più chiara, che è la 01 Ivory. E i fondotinta cushion sono tutti uguali, hanno questa confezione. Qua c'è questa sorta di pulsantino per aprire, specchietto, pad. Fate così e si apre. Questo è la giusta tonalità, secondo me. Ancora non l'ho provato, lo volevo provare oggi, ma mi sono scordata. Quindi ci sarà occasione. E i fondotinta cushion hanno una coprenza modulabile, quindi va dalla coprenza più bassa a quella più alta. Ovviamente in base poi a quanto no lo mettete. E sono particolari, sono così iconici. Proprio perché lasciano questo effetto sulla pelle, molto luminoso. Ed è proprio quell'effetto tipico che voi vedete sulla pelle degli Idol, sempre per tornare al punto, almeno ci capiamo. Che hanno sempre quella pelle un po' lucidina, però non è quel lucido da sudore, ma è quel lucido che loro intendono come sano. Questo l'ho pagato 13€. Poi ho preso questo, che forse è uno dei più famosi, ma credo di aver toppato il colore, però era il più chiaro che c'era sul sito. Questo costa la metà di quello di prima, perché costa 7,50€. Ed è di Missha, tant'è che dei fondotinta cushion ne hanno tantissimi tipi. Questo qua in particolare è il Magic Cushion Cover Lasting. Sempre, vedete, solita confezione standard. Questo qui è il colore. Vi faccio vedere perché secondo me è parecchio scuro. Non si sa mai, magari è giusto e sembra solo scuro. Ho preso la tonalità 21 Light Beige. Quindi questo è per il make-up, diciamo. Tornando invece alla skin care, vi lascio il mio prodotto preferito alla fine. Ho preso questo, che è un kit di maschere. Sempre stata influenzata da uno dei miei esseri umani preferiti sulla faccia della Terra, cioè Hobby, grazie Hobby, J-Hope o Sock, come lo vogliate chiamare, che credo in una live dove stava insieme a Yoongi, sì, eccolo, ho trovato le immagini, aveva mostrato queste maschere. E visto che lui è uno di quelli che sta più attento alla skin care, apparentemente, per quello che io posso vedere, anche perché purtroppo non ci parlo tutte le sere al telefono, utilizzava appunto, vedete, questa maschera qui, che è quella che ho preso io, che in particolare è quella Altitree, proprio perché io vado sempre di maschere idratanti, e ho detto, stavolta prendo queste. Però c'è anche la versione blu, che è la versione idratante. E questo qui appunto è il pacco da 10, perché ovviamente conviene. Tant'è che l'ho pagato 20 euro, quindi più o meno siamo sui 2 euro a maschera. E hanno appunto questa funzione T3, quindi dovrebbe andare un po' a purificare. Poi, ultimo prodotto, che è uno dei miei preferiti, e è quello che mi ha tardato tutto il primo ordine, la prima volta, ma allo stesso tempo è la cosa più costosa, quindi vabbè. È un cleansing oil, primo passaggio per la doppia detersione, perché abbiamo detto, prima prodotto oleoso, poi prodotto schiumoso, barra, insomma, gel. Del marchio Suozo, comunque costa quasi 42 euro. Mai pagato così tanto il prodotto skin care. Questa qui è la confezione esterna, e poi c'è il pump, e il prodottino, che è questo. 200 ml, quindi comunque è parecchio. Questo prodotto è strafamoso, primo perché appunto lo utilizzano tutti gli idol, tutti. Io non so se hanno tipo un dermatologo di fiducia generale, che gli dà tutti sto cleansing oil, ma ce l'hanno tutti. E poi appunto uno di quelli con più star rates, quindi con più recensioni. Secondo voi potevo mai mancare a provare un prodotto del genere? No, e quindi eccomi qua. Ah, ultima cosa che mi stavo scordando, perché me l'avrò messa da una parte, poi meno male che ho riguardato l'ordine, è questa crema, che in realtà è un trattamento barra maschera. Ed è questo qui, che è di Laneige, che in realtà è un marchio che trovate anche ad esempio da Sephora, però non sempre ha questo prodotto, perché è veramente super mega iper famoso, tutti ne parlano benissimo. Ed è la Water Sleeping Mask, quindi è una maschera notturna. Illuminante, idratante, in ogni caso è questo popò di mask. Tra l'altro adoro le confezioni di Laneige in generale. Sono 70 ml, pagata anche qui un botto, 30 euro. Io prima snobbavo tantissime maschere notturne, sia perché portavo gli occhiali, quindi mi davano fastidio, e poi perché, non lo so, mi davano un'idea di una cosa non troppo stabile sul mio viso, perché poi io dormo ad esempio con la faccia sul cuscino, quindi pensavo, vabbè la metto, ma poi che senso già, tanto mi rotolo sul cuscino, si toglierà tutta. E in realtà, ragazzi, le maschere notturne fanno i miracoli. Provate per credere. Soprattutto quelle ovviamente idratanti, perché poi andate a mettere il prodotto e a tenerlo su tante ore, alla mattina vi lavate il viso, altro che il culetto di un bambino. Mi fa avere molte, molte aspettative, come tutto il resto delle cose che vi ho fatto vedere, non vedo l'ora di provarla. Poi ci sono un po' di campioncini, quindi ve li faccio vedere. Questo qua è un siero calmante di Beauty of Josson, acqua di foglie di camelia e vitamina B5, qui c'è scritto pantenolo 2%. Poi c'è questo del marchio Purito, o Purito, non lo so. Dovrebbe essere un booster, quindi un'essenza sempre, con qualcosa di fermentato, però è scritto tutto in coreano, quindi non so dirti. Cos X. Con all'interno un po' di campioncini. Infatti ci sono tipo tre bustine diverse, quindi sarà una sorta di trattamento illuminante, idratante. Infatti il primo è un tonico al propoli. Poi c'è quella che chiamano ampolla, quindi l'estratto, essenza, siero, eccetera, eccetera. Crema. Ci sono altri due campioncini. Questo qui è una protezione solare. È una protezione solare, sempre 50 a più, della Eleven Village Factory. Waterproof Chica Sun Lushion. Addirittura waterproof. Quindi questo è utile al mare. Questa qui invece è una crema, sebo regolatrice e levigante, alla centella asiatica, spirulina e avocado, di questo marchio qui. Quindi, grazie Sito per questi fantastici campioncini. Detto già, questo video finisce qui. se avete qualche prodotto ovviamente che avete della vostra skin care e che avete trovato sul sito di E-Style, che volete consigliare a me e a tutta la community che andrà a leggere poi i commenti. Tanto Amarok si sta... che sta facendo là dietro. Quindi dicevo, se avete appunto qualcosa da consigliarci, che sia di skin care coreana, che sia di make up, fatecelo sapere. Io vi ho fatto vedere un po' le mie cose. Trovate, ripeto, tutti i link qua sotto. Detto ciò, vi mando un bacio grande e ci vediamo presto. Ciao!